Massimo Bellardinelli, dirigente scolastico del circolo di San Filippo, per la seconda volta vi è stato riconosciuto un importante premio nazionale. Di cosa si tratta? Il label dell'innovazione per i progetti europei, quindi siamo veramente molto orgogliosi perché solo 10 scuole in Italia hanno potuto avere questo premio per i progetti europei e per l'innovazione. E particolarmente lo abbiamo avuto per l'International Primary School, noi abbiamo una scuola primaria in cui si fa il bilinguismo italiano-inglese ad altissimo livello, pensate che i nostri ragazzi fanno fino a 11 ore la settimana di inglese e lo fanno soprattutto in metodologia CLIL, cioè usano l'inglese come lingua veicolare in altri ambiti disciplinari. Proprio per questo ci è stato chiesto di entrare nella rete nazionale che sperimenta su questa metodologia e questo ci ha ovviamente inorgoglito molto. La scuola non è la prima volta che riceve questo riconoscimento, è un riconoscimento nel quale anche noi ci gratifichiamo in qualche modo, essendo evidentemente in una città sensibile, diciamo oltre che al multilinguismo, anche alla relazione tra diverse culture, tra diversi mondi. Spesso le diversità vengono accentuate, in questo caso le diversità trovano un minimo comune denominatore e su quello si conoscono popoli, si conoscono soprattutto bambini. Considerate che siamo veramente in una International School, cioè i bambini abitualmente in questa scuola e in videoconferenza comunicano con tutto il mondo. In questo caso dobbiamo appunto applaudire ad un risultato conseguito che proietta questa città e soprattutto la sua popolazione più giovane verso un mondo di relazione internazionale profondo.